Dopo anni di difficoltà economiche e tagli di personale all'acciaierie Beltrame di San Giovanni Valdarno, buone notizie per i lavoratori che hanno subito negli anni scorsi la scure degli ammortizzatori sociali e quindi le inevitabili perdite di stipendio. L'azienda infatti, grazie ad un accordo con i sindacati, ha deciso di restituire nella busta paga di maggio il 75% dei soldi persi durante gli anni della crisi, nei quali era stata messa in seria discussione anche la chiusura definitiva dello stabilimento. Dopo il piano di rilancio però e l'arrivo del nuovo amministratore delegato, le cose sono cambiate e nel 2017 il gruppo Beltrame ha un ricavo netto di circa 1 milione e 100 mila euro, soldi che hanno consentito di ottenere questa sostanziosa aggiunta nello stipendio dei lavoratori per questo mese. Un segnale significativo questo per lo stabilimento di San Giovanni Valdarno e per i lavoratori stessi che l'azienda lancia. Un segnale che trova soddisfatti anche i sindacati. Sentiamo al telefono la FIOM CGL rappresentata da Alessandro Tracchi. A fronte anche delle discussioni sindacali e del buon rapporto relazioni sindacali ha fatto sì che l'azienda è stata recettiva e quindi ha fatto un'integrazione con un premio che è uno sfondo sociale che ha l'effetto di dover rendere ai lavoratori parte di quei soldi che hanno perso per le lunghe soste interessate dagli ammortizzatori sociali. Il futuro dello stabilimento San Giovannese dipenderà soprattutto dalle commesse che a livello europeo non crescono ed è forse questo a far preoccupare di più anche se la situazione è migliorata rispetto al passato. Il futuro si basa sempre in una strategia di tenuta perché i volumi di mercato comunque non crescono a livello europeo e quindi la saturazione degli impianti non c'è.